Siamo Susanna e Consuelo e vi parliamo dalla Resurrection Life Church a Zurigo in Svizzera. Di nuovo un altro mistero è risolto oggi, come ricevere ciò che è già stato preparato per me e siamo davanti a un distributore automatico e cosa c'entra questo con il nostro mistero. E quello che vogliamo spiegare prima, Dio ha un distributore automatico per te in cielo e questo distributore automatico è già pieno di tutto ciò che a te già servirà nella tua vita. Nella tua macchina nel cielo, questo distributore automatico, c'è provisione, protection, healing, divine connections, your calling, la tua vocazione. Se dovresti scrivere dei libri, i tuoi libri sono già dentro l' distributore automatico. Se dovresti scrivere delle canzoni, sono già depositate nella macchina. Forse è una invenzione. Ogni provisione, ogni cosa che a te serve è già preparata in questo distributore automatico in cielo. La domanda è come io tolgo queste cose. Come le porto dal cielo alla terra. Se Dio ha già preparato tutte le mie provisioni in cielo. E credo che già hai dominato. E we're going to see right now. Guardiamo adesso. È tramite la preghiera. Matteo 6, 9-10. And the Bible says here. E la Bibbia dice. Our Father in heaven, hallowed be your name. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Your kingdom come. Venga il tuo regno. Your will be done. Sia fatta la tua volontà. On earth. Come in cielo, così in terra. As it is in heaven. Yes. So we want his will. This is the first thing. You have to agree with God. Allora noi vogliamo la sua volontà. Dobbiamo essere d'accordo con Dio. We have to agree with him and say, Lord, I believe you prepared already everything before I was born. Dobbiamo essere d'accordo con Dio e dire, Dio, credo che tu hai già preparato tutto prima che io nascesse. And God has only nice things in your heavenly vending machine, believe me. E Dio ha solamente cose belle nella tua macchina in cielo. But you don't know all the things that are there. Ma tu non sai, non le conosci. And this is where, on earth, if you want to drink or some snacks. Sulla terra, se vuoi una bibita o uno snack. Normally we put in the coin. Normalmente metti una moneta. The way you put in the coin in your heavenly vending machine. È il modo in cui tu metteresti la moneta nella tua macchina in cielo. We already said it's through prayer. È tramite la preghiera. And you pray the prayer, you will be done. E tu hai pregato, la tua volontà sia fatta. But then there is many blessings in that vending machine that you have no idea about. Ma ci sono molte... Provisions, blessings, gifts. Ci sono molte benedizioni in questa macchina. Ci sono dei talenti, ci sono delle provisioni. Actually gifts too. Anche i doni. And i regali. I regali, sì. And the way you put in the coins, if you don't know what all is in there, is by praying in the Holy Spirit. È il modo in cui tu metti questa monettina è pregando nello Spirito Santo. Literally, every time you put in a coin on the earth, you make a transaction. You put in the money and your drink comes out. Letteralmente, quando tu metti una moneta sulla terra, in una di queste macchine la tua bibita scende. In heaven, when you pray in heavenly tongues. E in cielo, quando tu preghi con la tua lingua celeste. So, you are on the earth praying. Sì, tu preghi sulla terra. But, you're putting like a coin in, by praying in the Spirit, you're putting a coin into your heavenly vending machine. Ma è come se tu, dalla terra, quando preghi con la tua lingua celeste, è come se tu in cielo mettessi una monettina. And something comes out of your heavenly vending machine. E qualcosa uscirà da questa macchina. It's entirely up to you how many transactions you want to do. È totalmente, nelle tue mani, quante transazioni vuoi fare. The more you pray, più tu preghi, in the Holy Ghost, nello Spirito Santo, the more things come out of your heavenly vending machine. Più cose usciranno da questa macchina. And they will manifest on earth. E si manifesteranno sulla terra. And God's will can be done on earth as it is in heaven. E la volontà di Dio potrà essere fatta sulla terra come sul cielo. And God is glorified the more transactions you do. E più tu fai transazioni, più Dio sarà glorificato. Keep praying. Continua a pregare. Keep pulling things out of your heavenly vending machine. Continua a togliere le cose da questa macchina automatica. And let us know. E facci sapere. What manifested down here on this earth. Cosa si manifesta qua sulla terra. God bless you. Diti benedica. Bye bye. Bye. Bye.